Salve a tutti ragazzi, qui è Lernate che vi parla ed eccoci qui in un nuovo video su Mad Max La volta scorsa abbiamo conosciuto il biandante sconosciuto, abbiamo rafforzato la nostra auto, l'abbiamo aggiunto al nitro E ora... Oh, eccoci qua Il menu di potenziamento di Max è stato sbloccato ed ora è disponibile il menu di pausa Options Eh, non ce ne frega Allora, che devo fare? Devo parlare con il Gobbo Ciao Gobbo Si fa sempre più brutto, ciò vorrei capire, sembra un doppia faccia di Batman Interessante Come and then? Eh, come and then? Ero? 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 Questo è il numero magico! Tu e me, noi saranno un grande chief! Un buonafide fardboy, eh? 429 in cubi, 460 horse, holy roll e nessuno potrebbe toccare te sul blacktop e pagare il night way! Eterno! E con i guaddi! Dai un cazzotto! Chi è il dilavatore? Cazzo, ma il dilavatore! Che figo! Ah, cavolo! Chi è questo? Corri ragazzo, laggiù! Corri ragazzo laggiù! Se devi scappare, scappa! Figlio di Troia! Vai! Vai! Sì! Ah! Un tuffo nella piazza! Pazzia! Dislessico Overmode! Sì! Esi ragazzi sono la squadra di Stank Gum! Scorotus è il più morto! Sì! Sì! Profane di Violers! Scavenger scum! Sì! Non posso bruciare e toccare le scene mie! Sì! Merdo! Chi? Ah! Chi cazzo è questo? Quanto si è brutto! In questa nazione sono tutti ovvuti! Orremmo! Scenico! Oh! Eccoci qui alla fortezza di Jit! Cosa! Un appena c'è! Si è un Razzraiser! A presto! Mi sono scusate, ma è un'attività di attraverso le strumenti! Si, vedete! Perché io necessitavo di attraverso le strumenti di attraverso le strumenti? Scrapmonkey! Porre! Porre, noi stiamo a incontrarci i morti! E tutte le mie esce, è stato distruttato! Stai le scabitari! E... noi dobbiamo curare questa macchina! Se potete uscire qui... Cioè, per fare sto video mi sono svegliato alle 10, ho iniziato a registrare a mezzogiorno, due ore, solo per mettermi un link. Ok. Si parte? No. Ancora. Jit. Fortizzo. No, Jit. Fortizzo. Guarda, guarda, guarda. Posso debuffar di me? No, guarda. Concludi un accordo con Jit. Guarda. Ciao, Risa. Io, Shist. Shittaman. Guarda. Guarda. a insultare un uomo in sua propria casa. Occhè, noi avevamo regalato in questo striccio, e ora il guerrero controlla tutto e tratta solo la morte. Guerrero? Scrotus, Scabris... Ufff... 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 Uff... Ufff... 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 Allora, prima che faccio, dobbiamo fare un accordo? Si, tu abbastanza l'influenza di questo morto guerrero, e dobbiamo fare un accordo. Tu dovresti prendere il tuo piccolo blackfinger a lavorare sul tuo caro. Non è vero, non è vero, non è vero. Non, non è vero. Non è vero, 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 non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero. Non con un po' paura. Oh, che parla... Tanto mi l'attentatrice, la mohata. Ren... ...a esquiva. Oh finalmente, il video è finito, abbiamo provato tante di quelle volte la missione, abbiamo messo il cecchino, abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma è la missione più orrenna che abbiamo mai fatto. Qui dalle Norte è tutto, bene.